Con l'elezione di Marco De Nostro a parlamentare italiano, all'Europarlamento subentra Matteo Gazzini, imprenditore di Alto Adige, che sarà il nuovo sostituto per un anno e mezzo circa a Strasburgo. In questa puntata di Focus andiamo a conoscere più da vicino il nuovo eurodeputato del nord-est. A tra poco. Cari amici di Vivitalia TV, bentornati alla nuova puntata di Focus da parte di Stefano Elena. In questa puntata andiamo a conoscere più da vicino Matteo Gazzini, il nuovo eurodeputato del collegio nord-est e nonché secondo eurodeputato dell'Alto Adige dopo il Herbert Dothman. Buongiorno Gazzini, grazie per aver accettato l'invito a Focus. Buongiorno, grazie a voi. E dagli studi di Vivitalia il nostro esperto in comunicazione e analisi politica Gianfranco Merlin. Bentornato a Focus, Merlin. Grazie direttore e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, Gazzini, voglia presentarsi ai nostri spettatori per dire chi è, cosa fa e cosa si intende di portare avanti in questa sconcio di legislatura da qua alla fine del maggio del 2024 delle elezioni del Parlamento europeo? Sì, io mi chiamo Matteo Gazzini, sono nato a Bolzano in Alto Adige e sono un imprenditore edile ed agricolo, faccio attività di sviluppo immobiliare come la faceva mio padre prima di me in Trentino Alto Adige ed in Toscana. Ho passato un lungo periodo di studio lavoro negli Stati Uniti, precisamente in Florida e successivamente negli Stati Uniti nel nord-est a Syracuse, New York, stato di New York. successivamente sono stato candidato per gli italiani all'estero nel 2018 per la Camera dei Deputati, purtroppo per qualche preferenza non sono riuscito a passare. l'anno dopo nel 2019 invece sono stato candidato, grazie al volere di Matteo Salvini, per le elezioni europee nel 2019 e purtroppo anche questa volta non ero passato. Poi, adesso con queste elezioni anticipate, due miei colleghi sono andati al Senato e quindi io sono subentrato ad uno di loro e in particolare sono subentrato a Marco Dreosto. Ecco, con questa subentro praticamente lei porta a due la rappresentanza dell'Alto Adige che già godeva dell'eurodeputato Herbert Dorfman, eletto con l'Alleanta Foxparta e Forza Italia in rispetto soprattutto a quello che è la rappresentanza delle minoranze. Lei cosa si propone di fare? Avrà anche una collaborazione con Dorfman in modo da rafforzare maggiormente quello che è l'impatto dell'autonomia altotesina a livello italiano e anche e soprattutto europeo? Certo, è stata mia premura contattarlo prontamente, tant'è che lo scorso venerdì siamo andati a pranzo assieme, poi siamo rimasti anche o ben oltre pranzo perché siamo rimasti assieme a discutere per ben tre ore. Herbert Dorfman è una persona molto preparata, come mi aspettavo che fosse e come sono solitamente gran parte se non tutti i politici dell'SVP. Abbiamo discusso su possibili collaborazioni proprio per far sì che il territorio Alto Adige, Trentino Alto Adige e Triveneto con Emilia Romagna sia insomma ben rappresentato in Europa. Senta Matteo, Gazzini ci può anticipare su che argomenti avete trovato soprattutto accordi di fare questo tipo di sinergia in Europa? Allora, beh innanzitutto devo dire che ancora il mio subentro non è effettivo perché sto ancora aspettando che venga inviato da Roma il mio nome a Bruxelles. Roma è sempre lunga come procedure. Purtroppo, ecco, questo è uno dei grandi problemi dell'Italia, la burocrazia e le lungaggini. Ecco, e questo qua però... Beh, Gazzini, tenga presente che dicono che ci sia altrettanta burocrazia anche in Europa, non dico altrettanta ma quasi, non è che sia proprio rose e fiori anche in Europa da quel punto di vista lì. Ho sentito, ma ci sono due tipi di burocrazie, cioè quella burocrazia che funziona, che serve per far sì che non ci siano intoppi, che non ci siano problemi e che tutto venga registrato come si deve e poi c'è la burocrazia all'italiana che purtroppo noi sappiamo com'è, che è quella dei vari uffici che si rimpallano i problemi e poco insomma risolvono. Ecco, io credo che a Bruxelles, da quelle due telefonate che ho avuto con degli uffici di Bruxelles, io credo che a Bruxelles sappiano cosa stanno facendo e siano molto efficienti, tant'è che loro si sono accorti immediatamente del fatto che delle incompatibilità, delle incompatibilità sia di Mara Bizzotto, neoeletta al Senato, sia dell'incompatibilità di Marco Treosto, neoeletta al Senato, come anche Tajani, Calenda, Berlusconi e così via. Sono stati pronti nel notare questa incompatibilità, tant'è che loro adesso sono effettivamente fuori dal Parlamento europeo e nell'ultima plenaria di Strasburgo c'è stata proprio una dichiarazione ufficiale proprio dal Parlamento europeo. Adesso quindi la palla è passata a Roma, che Roma dovrà comunicare i nuovi nomi, tra cui il mio. Certo, scusi direttore però non ha risposto agli argomenti, vedi che comincia a diventare un bravo politico, comincia a denoblare gli argomenti, non comincia a far così, no le avevo chiesto, volevo chiederle appunto quali sono gli argomenti dove pensate di trovare una sinergia proprio specificatamente, se c'è qualche argomento, non so, agricoltura, autonomia, non so di che cosa avete parlato in queste tre ore, dove vi siete trovati concordi? Allora, beh, innanzitutto diciamo che non siamo entrati nel merito di futuri progetti e le spiego il perché. Ancora io non so in che commissioni io sarò, quindi non è detto che io prenderò le commissioni che prima erano di Marco Dreosto. Da quanto mi è stato comunicato, probabilmente io sarò nella delegazione degli Stati Uniti, proprio per il fatto che io avendo abitato otto anni negli Stati Uniti, diciamo, è importante avere una persona che conosca molto bene la cultura, la lingua e le persone locali. Poi mi è stato anche detto che forse otterrò anche la delegazione del Brasile perché io, anche se sono molto molto pallido e con gli occhi azzurri, io sono per metà brasiliano e quindi so molto bene il portoghese, ho anche parenti in Brasile e e quindi insomma potrei essere molto utile in quella delegazione. Per quanto riguarda le commissioni purtroppo ancora non so nulla, non so se continuerò con le commissioni di Dreosto, ma mi è stato detto di no, che probabilmente cambieranno. Vedremo, bisogna aspettare e quindi l'ho fatto anche presente ad Herbert Dorfman e quindi ci siamo ben dati appuntamento per un successivo incontro per discutere insomma precisamente e concretamente su come noi potremmo collaborare. Però la collaborazione per ora è una collaborazione già, c'è più che altro dal punto di vista umano, perché l'Alto Adige adesso, cosa che mai era successo prima, ha due parlamentari europei e questo è un fatto storico di cui l'Alto Adige, se non tutto il Trentino Alto Adige, ne può essere fiero. Ecco, da questo punto di vista, Magazzini, c'è l'aspetto diciamo istituzionale, per cui l'Alto Adige è forse la vedetta in Italia a livello istituzionale per quanto riguarda l'autonomia, ci sono le regioni inordinarie che stanno cercando di avere maggiore autonomia anche perché soprattutto Veneto e Lombardia hanno fatto cinque anni fa il referendum per avere la maggiore autonomia nell'ambito del procedimento dell'articolo 117 della Costituzione, così come è stato riformato dal centro-sinistra quando era il governo negli anni, nei primi anni 2000, ma soprattutto c'è la questione anche di come cambiare l'assetto istituzionale nazionale, perché il nuovo premier, Giorgia Meloni, ha già detto che nella prossima legislatura si dovrà impiantare una riforma istituzionale di stampo presidenzialismo e da questo punto di vista, secondo lei, presidenzialismo e autonomismo possono andare d'accordo? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma tant'è che diciamo che gli Stati Uniti, faccio un esempio, è una repubblica federale presidenziale, poi se il presidenzialismo invece in Italia vorrà essere fatto in un'altra maniera, perché sicuramente non sarà diciamo come quella americana, sarà sicuramente diversa, quindi noi continueremo probabilmente ad avere un presidente della Repubblica e poi un premier, quindi su questo ci sarà sicuramente una differenza, però le cose possono andare benissimo a braccetto, anzi non vedo problemi su questo. L'autonomia, ovviamente l'autonomia che il Veneto, regioni come il Veneto e la Lombardia non potranno mai essere come l'autonomia dell'Alto Adige, del Trentino Alto Adige, perché diciamo che per vari motivi, uno perché la situazione del Trentino Alto Adige è una situazione molto particolare, diciamo che è una situazione culturale, cioè che va, che ha radici culturali, nel senso che qua da noi in Alto Adige il 60% delle persone parlano tedesco, sono di madrelingua tedesca e solo il 40% sono di madrelingua italiana, quindi c'è stato il bisogno di tutelare questa minoranza e quindi l'autonomia è stata fatta in un modo che fondamentalmente l'Alto Adige fosse uno Stato dentro un altro Stato, tant'è che noi per esempio le imposte, il 90% del gettito insomma rimane sul territorio, ecco solo 10%. Meglio dire rimaneva sul territorio perché dopo che c'è stato il passaggio del governo Monti, purtroppo il gettito dei nove decimi si è ridotto ai sette decimi e adesso ha chiesto a Meloni il ripristino degli accordi derivanti dagli accordi di Parigi da questo punto di vista qua. E quindi è la stessa cosa successa anche per il Trentino, però Gazzini bisogna anche dire una cosa, che lei ha detto bene che l'Alto Adige ha delle piccolarità soprattutto culturali, etniche, linguiste, però a furia di tutelare la minoranza tedesca si è andati a, tra virgolette, danneggiare, a mettere diciamo in una specie di riserva indiana anche gli italiani che in Alto Adige sono loro la minoranza. E in molti casi, soprattutto con il discorso della proporzionale etnica applicata specialmente ai contratti, ai concorsi, all'accesso ai benefici pubblici e quant'altro, si è creata una forte discriminazione, tant'è vero che tanti italiani, soprattutto nel recente passato, si sono iscritti al gruppo etnico tedesco proprio per avere accesso ai benefici della proporzionale, facendo un segreto diciamo di tiro. Ma da questo punto di vista non sarebbe anche opportuno, visto che si parla di ristrutturare l'autonomia, di cambiare gli statuti per renderli anche più coesi e coerenti con l'attuale in realtà, dare anche un'autonomia in cui tutti i territori, tutti i cittadini fossero sullo stesso pari, con rispetto della lingua, della cultura e vicenda, ma soprattutto per evitare che la politica sia sempre gestita in maniera quasi unilaterale dalla post-parte che è stata. Direttore, prima che inizi a rispondere Gazzini, volevo precisare una piccola cosa perché siccome noi questa trasmissione la vediamo in tutta Italia, non tutti sanno però che è successo anche una piccola cosa che io vorrei sottolineare, durante il fascismo veramente ci sono state delle ingiustizie nei confronti della minoranza etnica tedesca, questo io da italiano lo so e bisogna ammettere, bisogna dirle queste cose qua. Sì, sì. Sono stati addirittura umiliati, hanno fatto, addirittura non potevano, siamo passati da un estremo all'altro perché non potevano neanche accedere ai posti pubblici. Siamo passati da una situazione esattamente a un'altra. Pertanto, no, volevo solo precisare perché sembra che ci sia solo l'ingiustizia da una parte sola. Non è proprio così, bisogna essere obiettivi. Prego Gazzini. Però, no, no, ha ragione, ha ragione. Anzi, durante il fascismo le famiglie tedesche hanno dovuto cambiare addirittura il cognome, con un cognome italianizzando il proprio cognome, insomma, delle situazioni totalmente inaccettabili. Detto questo, la verità sta nel mezzo che attualmente in Alto Adige la minoranza da tutelare dentro l'Alto Adige sono gli italiani, perché la vera maggioranza sono gli italiani. Mentre invece la minoranza diventa minoranza tedesca quando si parla di Italia, perché giustamente gli altoatesini, i sutirolesi tedeschi sono minoranza in Italia, però sono maggioranza in Alto Adige. E attualmente, con l'autonomia che noi abbiamo, fondamentalmente, loro hanno ottenuto un'autonomia, insomma, già molto armata, molto bella, bella grossa, e di conseguenza siamo noi italiani qua in Alto Adige che siamo minoranza. Anche perché, così come è stata costruita l'autonomia, l'impianto autonomistico in Alto Adige, non è che si sia favorito, diciamo così, una convivenza, una fusione tra la popolazione, nel senso di tenerla tutta altoatesina, tutta italiana, tutta mistilingue, si sono ottenuti degli speccati etnici e culturali decisamente molto forti, tant'è vero che se sono volentieri non c'è un osmosi nella popolazione, non si è creato, tra virgolette, qualcuno mi passi la parola, l'altoatesino. Si è ancora popolazione tedesca, popolazione italiana e popolazione ladila. E questo forse è il maggiore, diciamo così, il difetto di più. Sono d'accordo. Ma già la convivenza è già una bella cosa, è un ottimo risultato. Guardi, io faccio un esempio personalissimo, io sono stato su ultimamente per una raccolta di firme a livello politico in un mercato a Bolzano, in uno dei più grandi mercati, non so se era il mercoledì se non sbaglio. E lì si vedevano tranquillamente una convivenza direi naturale, gente tedesca di lingua tedesca e italiani che compravano la stessa bancarella, che facevano trattative, che compravano sia il pane di origine tedesca, gli italiani che compravano il pane tedesco. Insomma, io ho visto un bel esempio però, che ecco io volevo appunto, mi aggancio anche a fare una domanda, che questo esempio addirittura viene impiegato tante volte per risolvere eventualmente una situazione che si è creata in Donbass in questo momento, perché tanti dicono, osservatori internazionali, ma perché non prendete come esempio la convivenza dell'Alto Adige? Ecco, io vorrei che magari mi dicesse un suo parere a riguardo. Ma soprattutto sulla questione della gestione dell'autonomia altotesina, c'era stato ancora negli anni dietro, Durwalder, l'ex presidente dell'Alto Adige, che si era speso per portare l'autonomia quando c'era stata ancora l'invasione della Crimea, ancora 6-7 anni fa. E quindi diciamo che l'impianto autonomistico speciale, peculiare, con la convivenza di tre gruppi etnici diversi, potrebbe essere veramente un esempio, sia per la questione del conflitto russo-ucraino, ma anche per tutti gli altri conflitti che ci sono dentro nei Balcani, perché anche lì c'è una questione molto forte di tensione etnica, politica e sociale, da questo punto è vero, è vero. No, sicuramente noi dell'Alto Adige potremmo dare effettivamente un contributo importante a questa diatriba tra Ucraina e Russia nel Donbass, perché ovviamente noi abbiamo costruito questa autonomia negli anni, in decenni. Ricordo che negli anni passati questa autonomia c'è costata anche delle vittime, ci sono stati atti di terrorismo, per poi arrivare diciamo alla soluzione di creare questa autonomia e vedere di trovare, di trovarci diciamo, trovare un terreno comune che ci ha portato alla pace e poi successivamente, successivo alla pace, ci ha portato ad essere una delle province più ricche dell'intera Italia. Quindi sicuramente noi potremmo farci promotori di pace andando in Ucraina, andando in Russia e cercare di mediare tra queste due nazioni. Io personalmente penso che l'escalation che c'è stata in Ucraina è stata un'escalation terribile. Non sto né da una parte né dall'altra, perché sto soltanto ovviamente col popolo ucraino che è un popolo che viene bombardato tutti i giorni e questa cosa qua è una cosa totalmente inaccettabile, però voglio andare a monte a ricercare il problema, il perché questo popolo viene bombardato, perché in tutto c'è un perché. L'autonomia quindi può dare una risposta, può dare una risposta a uno di questi perché, ecco. Quindi io mi auguro insomma di poter in Europa dare un contributo, però la prima cosa che mi auguro è che si arrivi ad una pace tra Ucraina e Russia il prima possibile. Questo se lo augurano tutti quanti. A me personalmente fa piacere queste parole qua, perché io sono stato il primo giorno di guerra, si ricorda direttore, che ho detto qua bisogna trovare delle trattative, andare a trattative di pace, non come dice la von der Leyen che vogliamo vincere. Guardi, se la vede, glielo dica da parte mia che non è questa la strada giusta, dire che noi dobbiamo vincere nei confronti di Putin, non vinceremo, bisognerà trovare una trattativa. Dovrà cedere qualcun altro, dovrà per forza, tutti e due dovranno cedere qualche cosa. Dimentica una cosa, che fra Ursula era fino a prima di diventare Presidente della Commissione Europea Ministro della Difesa tedesco e quindi ha una piccola così di opinione un pochettino più guerra fondale da questo punto. Lo so, però guardi che noi ci stiamo rimettendo, guardi che la crisi economica che sta iniziando, che avverrà, dipende tantissimo anche da questa guerra qua, perciò prima si trovano delle soluzioni, prima ti ho visto questo compromesso, perché non sarà una vittoria né da una parte né da una, ci sarà senz'altro un compromesso. Pertanto, ognuno dovrà cedere qualche cosa e trovare una soluzione, magari lei, visto che siete in due dell'Alto Adige, portate l'esempio, o in Europa, dite noi abbiamo fatto così e conviviamo bene. Senta una cosa, lei ha parlato di autonomia, di territorio che è estremamente ricco, ma è anche da imprenditore, quanto ha contato, quanto ha pesato l'autonomia altotesina per farla crescere, per farla prosperare e soprattutto nella sua attività? C'è una differenza tra operare in Alto Adige e operare fuori della regione? Sì, sì, le dico una cosa a riguardo. Noi effettivamente con l'autonomia abbiamo autonomia anche per fare nostre normative in certi ambiti e quindi noi possiamo autogestirci su molti temi. Il problema sono quando ci sono le leggi italiane, che invece ci sono leggi italiane che noi dobbiamo seguire e a cui noi non possiamo derogare. Quelle sono un problema perché mentre nel resto d'Italia le leggi vengono, diciamo, interpretate in modo all'italiana e quindi... Nel senso che si applicano per gli amici e si interpretano per gli amici? Io dico all'italiana, senza far polemica, però l'interpretazione delle leggi all'italiana è un po' più blanda, diciamo sistemiamo un po' le cose così com'è, le interpretiamo molto alla buona. Questo ecco in Alto Adige non succede, quindi una legge fatta per l'Italia qua da noi è è dura, è dura, è molto più dura perché qua da noi le leggi si rispettano religiosamente. In Alto Adige, diciamo, faccio un esempio, l'Alto Adige ogni anno è la provincia dove ritirano più patenti per guida in strato d'ebrezza. Il problema qua da noi non è che ovviamente noi altotesini siamo... Il problema è che dalle altre parti non si fanno... Guardi che nelle ballate dell'Alto Adige le conosco lì, l'Alcol vola a fiumi, fanno bene anche. Anche qualche ballata del Trentino abbiamo... Ma vola anche in tutte le altre regioni d'Italia, iniziare da... No, no, ma guardi in Alto Adige quando fanno le feste le fanno come si deve. Ma le feste siamo bravi a farle, in tutta Italia siamo bravi a far feste, ma quello che volevo dire è che da noi ci sono... quando c'è una legge ci sono i controlli e sono dei controlli accurati e non si scappa e le leggi vengono applicate alla lettera e non si possono discutere e non si prestano molto a interpretazioni. Certo, ma però... Fuori dall'Alto Adige ovviamente tutto è più... È molto più... La situazione è molto più blanda. Poi ovviamente si va più al sud e là insomma è anche un po' più... È ancora più blanda diciamo, ecco. E quindi questo per un imprenditore ovviamente è... È da un punto di vista competitivo rispetto agli altri imprenditori delle altre regioni più difficili perché... Però la cosa più interessante forse a livello, diciamo così, dei nostri spettatori è anche capire il fatto che l'autonomia speciale con la facoltà di trattenere in loco gran parte delle tasse che si raccolgono, perché ricordiamoci una cosa, che l'autonomia altotesina così come quella trentina è finanziata quasi in toto dal gettito erariale locale. Esatto, corretto. E che quindi l'amministrazione locale deve favorire quanto più possibile lo sviluppo per creare ricchezza. E qua lo si vede anche nel confronto tra Alto Adige e Trentino dove negli ultimi dieci anni l'Alto Adige ha fatto una politica di sviluppo economico decisamente maggiore di quella del Trentino e questo si riflette nel volume del bilancio provinciale disponibile che quello Alto Adige è quasi del 40% superiore a quello Trentino e questo indica un po' la differenza. E adesso che c'è la crisi ovviamente cala il fatturato delle aziende, cala il gettito tributario e bisogna cercare di far finanziare tutte le cose. Però nelle periodi di normale attività, con le imprese che funzionano, con l'economia che gira tranquillamente, questo genera maggiori risorse da gestire sul territorio. E da questo punto di vista, come imprenditore, lei ha avuto benefici da avere un interlocutore vicino a lei come nella provincia di Bolzano o il Trentino che dava immediatamente risposte anche per avere maggiore capacità economica che non in un'altra realtà, pensiamo al confinante Lombardia, Veneto o anche l'Emilia-Romagna. Ma le dico, in realtà più che altro da imprenditore io apprezzo l'efficienza più che altro del servizio pubblico altoatesino. Ecco, questa è la cosa più importante che ho notato rispetto ad altre regioni. Per esempio io lavoro anche giù in Toscana, insomma non c'è paragone, insomma l'Alto Alige è molto molto più efficiente della Toscana, si hanno risposte dagli uffici pubblici molto più celermente e quindi questo qua aiuta tanto. però diciamo che da un punto di vista che le risorse rimangano sul territorio, questo qua è un bene più che per gli imprenditori, per la gente diciamo comune, per quelli che insomma magari anche per quelli che sono in difficoltà, perché ovviamente l'Alto Alige può disporre di denari da destinare alle case, a concedere case a persone che ne hanno bisogno. noi abbiamo per esempio l'Ipes che fa questo, che è un ente insomma pubblico o parstatale comunque e diciamo che l'autonomia ha aiutato più la gente comune e è per questo che la Lega vuole portare l'autonomia in tutte le regioni, perché l'autonomia in tutte le regioni aiuta non tanto gli imprenditori, ma aiuta la gente comune e soprattutto la gente che è più in difficoltà. E' questo che noi della Lega stiamo cercando di far passare come messaggio. Purtroppo ci sono delle forze politiche come il PD e come Movimento 5 Stelle e come e da altri partiti di sinistra, che invece sono sempre stati contro a concedere le autonomie al Veneto, alla Lombardia. Volevo aggiungere un attimino un discorso. Allora giusto quello che lei dice, io aggiungerei anche il controllo da parte dei cittadini di come si spende e come si impiega il denaro pubblico, perché è lì vicino, io da cittadino ti voto e vedo poi come spendi il mio denaro, perché lo vedo sul luogo, non è che va giù a Roma e dopo non si sa più nulla come viene impiegato. Questa è una delle cose senz'altro favoribili dell'autonomia. Poi quando dice lei la critica ai partiti, io non ci metterei dentro soltanto dei partiti specifici, direi che forse è una tendenza del sud, dei cittadini del sud a non vedere di buon occhio questa autonomia, non è tanto la Lega che vuole. Perché lì ci sono degli interessi, ci siamo capiti. La matematica la conosciamo, io penso che la matematica la conosciamo tutti. Se la Lombardia e se il Veneto avessero la nostra stessa autonomia dell'Alto Adige, l'Italia non starebbe in piedi, perché l'Italia, l'intero paese dipende fondamentalmente dal prodotto interno lordo generato in Veneto, generato in Lombardia e in Piemonte e diciamo poi dal... Non dimentici l'Emilia Romagna che è un suo... No, no, anche dall'Emilia Romagna è quello che stavo proprio per dire e quindi ci rendiamo conto che la bambagia poi finisce per invece quelle regioni che non producono nulla. Ma questo non vuole dire, ma questo non vuole dire che questo discorso qua è un discorso matematico ovviamente, però che non si può avere in tutte le altre regioni d'Italia l'autonomia che ha l'Alto Adige. Ma la Lombardia e il Veneto non chiedono questo. La Lombardia e il Veneto chiedono giustamente di avere qualche competenza, qualcosa in più. Anche l'Emilia Romagna, eh? Sì, anche l'Emilia Romagna, però diciamo che quelli più... che se la sono presa molto di più ultimamente diciamo sono stati i Veneti e i Lombardi, ecco. Però io voglio ricordare ai Veneti e ai Lombardi che loro sono nei cuori di ogni leghista e sono nel cuore anche di Matteo Salvini. Il fatto è che ottenere l'autonomia non è facile. Cioè l'Alto Adige l'ha ottenuta in decenni, dopo decenni e dopo noi abbiamo avuto pure dei casi di terrorismo qua da noi. Insomma, l'autonomia non è come richiedere diciamo una sciocchezzuola che diciamo ci si può mettere d'accordo in Parlamento in due minuti. L'autonomia è... si va a cambiare la struttura dello Stato. Non è facile, serve tempo. Quando un Veneto viene da me e mi dice, Matteo, ma noi abbiamo circa cinque anni fa già votato per l'autonomia e voi ve ne siete fregati. Io dico, no, noi non ce ne siamo fregati, ma noi negli ultimi anni siamo rimasti al governo realmente per nove mesi perché l'unico governo dove la Lega poteva far qualcosa era il governo giallo-verde che siamo rimasti per nove mesi al governo. Abbiamo mantenuto tantissime promesse, però in quei nove mesi non potevamo fare l'autonomia perché noi... perché i miracoli... i miracoli insomma non succedono da nessuna parte. Io dico sempre che soltanto Dio può fare i miracoli. Noi possiamo soltanto usare gli strumenti che... Però, Gazzini, bisogna anche ricordare che quello che ha fatto nell'ultimo anno l'ex ministro Gelmini in tema di autonomia è andato, a detta di tanti anche costituzionalisti, contro il principio stesso dell'articolo 117 perché l'articolo 117 dice che quando c'è stata una trattativa tra lo Stato e la Regione e che hanno raggiunto l'accordo, questo accordo doveva essere ratificato a scatola chiusa dal Parlamento, punto. Là invece il ministro ha fatto tutta una legge quadro per cui il Parlamento avrebbe avuto la possibilità di mettere becco nell'accordo raggiunto tra Stato e la Regione e quindi di fatto lo spolpava questo accordo. Ma ritornando appunto a quello che dicono i fautori a Milano così come a Venezia della maggiore autonomia è che se veramente ci fosse la volontà di fare un percorso autonomistico che, come dice lei, l'autonomia delle regioni ordinarie che vogliono sfruttare l'articolo 117 è all'acqua di rose rispetto all'autonomia speciale del Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed altre regioni speciali che sono state fissate ancora nella Costituzione del 1948 quando è stata emanata. Il problema è che c'è una fortissima opposizione a mollare, a andare verso una forma diciamo blanda di federalismo ma soprattutto di sussidiarietà, di portare il livello di governo vicino alla gente in modo a poter controllare meglio l'attività e soprattutto avvicinare anche il livello di spese. Però visto che bisogna incominciare a stringere perché stiamo andando un po' fuori dai, io vorrei portarla in Europa adesso. Nei giorni scorsi, non più tardi di la seconda settimana, è entrato in servizio il nuovo governo tirolese presiduto da Anton Matt e con una maggioranza fatta tra popolari, socialdemocratici in sostituzione della precedente, popolari e verdi. E anche la nuova maggioranza ha detto che porterà avanti le politiche della vecchio governo gestito da Plattner, volto a mettere difficoltà sul traffico del Brenno, sulla tratta del Brenno che prendono per questioni ambientali, ma poi tutti sappiamo sia a lei da imprenditore sia a noi da giornalisti che l'azione che ha fatto il Tirolo sul tratta del Brenno è soprattutto protezionistica perché all'interno del Tirolo le merci continuano a muoversi anche con cammine inquinanti. Ecco, secondo lei, nella sua veste futura di eurodiputata e soprattutto sapendo che il regolamento europeo della concorrenza vieta provvedimenti anticoncorrenziali e di blocchi unilaterali, come è successo in questo caso qua, al traffico delle merci e delle persone. Lei riuscirà, assieme anche a Dorfoman, che è sulla stessa linea, ad incidere sui colleghi tirolesi in modo da evitare provvedimenti che sono anticoncorrenziali e che soprattutto allengono l'economia italiana? Beh, sai, il discorso, questo discorso qua, insomma, è una domanda che mi dovrà fare tra qualche mese quando mi renderò conto della situazione che c'è là su a Bruxelles perché io non sono uno che sono solito far promesse che non posso mantenere, quindi parlare di qualcosa che ancora io non ho toccato con mano, insomma, non mi sembra corretto. Quello che però mi sento di dire è uno, le infrastrutture, il sistema di infrastrutture europeo è un sistema di infrastrutture, diciamo, che fa, che permette all'Europa di funzionare. Ecco, adesso ovviamente ci sono i singoli stati europei che per vari motivi, che per vari motivi queste infrastrutture le usano per i propri fini e non solo le infrastrutture usano per i propri fini purtroppo. E ovviamente, insomma, tutte queste cose devono essere discusse a livello europeo. Adesso, nella fattispecie, questo problema ovviamente ci tocca a noi del Trentino Alto Adige, ci andrà sicuramente a toccare in prima persona, quindi proprio per questo sarà importante avere due europarlamentari a combattere su a Strasburgo e a Bruxelles e le saprò dire qualcosa di più tra qualche mese. Gazzini, lei i problemi li conosce, è un imprenditore, sa le difficoltà che hanno anche i nostri autisti, le persone che lavorano in questo campo dell'autotrasporto, sono veramente messi male, a volte stanno in coda nottate intere, giornate intere al Brennero. È un grosso problema. Comunque, quando magari ci sentiamo fra qualche mese e lei si impegna a venire da noi, magari ne discutiamo, vediamo. Ma volentieri, ma quello è un problema da un punto di vista infrastrutturale, soprattutto italiano, e tant'è che la Lega ha combattuto per avere proprio il Ministero delle Infrastrutture, dove è proprio Matteo Salvini, Ministro, proprio per questo motivo, perché noi abbiamo ritenuto che il sistema di infrastrutture italiano sia obsoleto e sia oltretutto indietro di 30 anni. Quindi, insomma, noi guardiamo molto in là nel tempo e è per questo proprio che noi ci siamo presi adesso l'impegno di curare le infrastrutture, tra gli altri ministeri che abbiamo ottenuto, e diciamo che ci siamo buttati proprio sui due cavalli di battaglia della Lega, che sono quello di portare l'Italia veramente nel nuovo millennio, negli anni 2000, dal punto di vista delle infrastrutture, e poi abbiamo ottenuto il Ministero degli Affari Regionali, proprio per il nostro storico cavallo di battaglia, che è quello del federalismo. Ecco, quindi, come potete vedere, noi stiamo lavorando serratamente per portare delle soluzioni concrete e vere ai cittadini, e non le chiacchiere che altri partiti negli anni, invece, ci hanno propinato. Hanno dato tante parole al vento che non si sono mai concretizzate, infatti. Merlina, a lei la conclusione... Io vorrei concludere, perché ho visto che abbiamo sforato, strasforato. Niente, no, è molto piacevole parlare. Io però vorrei una promessa, perché quando si promette poi in pubblico, noi possiamo anche ricattare Gazzini. Lei mi promette una cosa, perché noi stiamo organizzando dieci puntate sull'autonomia, e perciò interpelleremo anche diversi politici. Se lei, magari sarebbe l'ideale, venisse assieme a Dorfman, la faremo magari fra un mese, così, parlare un parte di quello che abbiamo già detto qua, penso che diventerebbe una bellissima puntata. Se ce lo promette, sarebbe una cosa per noi molto valida dal nostro punto di vista, ma anche dal suo, per esprimere le idee. Bene, bene, bene. Con questo ricatto, diciamo, culturale e autonomistico, andiamo a finire questa puntata di Focus. Ringraziamo Matteo Gazzini, gli auguriamo anche buon lavoro. Grazie, grazie. Speriamo di averlo qua ulteriormente nelle prossime puntate. Da parte di Stefano Elena, Gianfranco Merlini, Matteo Gazzini. Arrivederci a tutti. A tutti i nostri spettatori, arrivederci nella prossima puntata. Ciao. Arrivederci, arrivederci, grazie. Grazie a tutti i nostri spettatori.